Primo giorno di lavoro per il nuovo prefetto di Chieti Gaetano Cupello. In realtà ha già attastato la situazione nella giornata di ieri, seguendo in prima persona gli sviluppi sull'incendio al magma di Chieti Scalo e annunciando stamani con soddisfazione che l'emergenza è rientrata e che l'esito dell'analisi dei tecnici Arta sulle sostanze sprigionate dalla nube di fumo è negativo. 61 anni, laureato in giurisprudenza, abilitato alla professione di avvocato, è entrato in carriera nel 1990 ed è stato nominato vice prefetto nel 2010. Tra i suoi incarichi emerge un'intensa attività di commissariamento in comuni segnati da infiltrazione di stampo mafioso, tra questi anche l'arcinota Casal di Principe. Sarà anche per questo motivo che appena insediato ha colto con estremo favore quanto ha saputo fare il suo predecessore Mario della Cioppa nell'estensione di numerose misure interdittive. Le isole proprio del tutto felici, forse non è che ne esistono ancora tante, io direi, diciamo un po' in tutto il centro-sud. Naturalmente io ora mi sono insediato, quindi devo anche un attimo, come dire, approfondire e valutare bene tutte le situazioni. Sicuramente nel momento in cui emergessero segnali che necessitano di un'attenzione particolare per quelle che sono le competenze del prefetto e della rete che si stringe, diciamo, attorno al prefetto dal punto di vista del contrasto anche alla criminalità organizzata, sicuramente non mancheremo di attivare immediatamente tutti quelli che sono le nostre funzioni, i nostri compiti per intercettare e contrastare immediatamente i segnali che dovessero emergere di tentativi di infiltrazione di criminalità organizzata, ripeto, qualora si presentino. Il mio predecessore, il prefetto della Cioppa, ha fatto un grande lavoro con le interdittive antimafie, che è uno dei compiti, voi sapete, diciamo, attraverso i quali il prefetto esercita lo strumento della prevenzione per il contrasto alla criminalità organizzata. Sicuramente, diciamo, su questa scia noi continueremo, ripeto, rispetto ai segnali che dovessero emergere. Sappiamo che la provincia più popolata dell'Abruzzo è anche quella che ha il tessuto economico produttivo più importante, quindi, diciamo, è un territorio da salvaguardare e da curare con molta attenzione.